In questa posizione, in questo braccio spingete verso l'interno e il volto, successivamente fuori l'anca, a questa mano blocca bene il braccio, quindi non è che fate questo, questo rimane, mi sposto, guardate, e blocco bene, e blocco bene in questo modo, con l'altro braccio, successivamente vado in torsione, in questo modo, un volto, in torsione, e poi andare sotto la mano, collochiamo.